Il relè Borgo Lanciano a Castel Raimondo, immerso nel verde delle colline macceratesi, è stato nuovamente teatro lo scorso 12 aprile della quarta edizione del prestigioso evento dedicato ai settori Pharma e Medical Device All You Can Track and Trace. L'appuntamento annuale, organizzato da EZ Software, importante azienda che sviluppa soluzioni software per applicazioni di fabbrica in ottica Industri 4.0, facente parte della nota realtà industriale QS Group con sede a Cerreto d'Ezi, al confine fra le province di Ancone e Macerata, è stato lo scenario in cui si è parlato dei principali sviluppi in tema di serializzazione dei prodotti farmaceutici, di soluzioni RFID a supporto della supply chain integrata e di identificazione univoca dei dispositivi medici e degli strumenti a disposizione delle aziende per soddisfare i diversi requisiti normativi. Sono stati presentati anche casi reali di applicazioni di Industria 4.0, quali la realtà aumentata, il Digital Twin, il Manutentore 4.0, la manutenzione predittiva e molti altri. Durante l'incontro ricco di intensi momenti di lavoro e di piacevoli occasioni conviviali, le aziende, tra le più rinomate ed importanti del settore farmaceutico, del dispositivo medico e della distribuzione, si sono confrontate individuando le soluzioni più interessanti. Ai nostri microfoni, Aleish Omari di Nice Label. Nice Label è un'azienda specializzata nella creazione, diciamo, nelle etichette digitali, vuol dire nella creazione del design e creare le etichette e la gestione delle etichette. per poi andare in stampa su stampe termiche, su stampanti termiche, RFID e anche sulle marcatura in diretta. La cosa bella di Nice Label è che è possibile gestire tutto il mondo delle creatazioni in un'azienda, vuol dire che non ci si affermiamo solo sulla creazione delle etichette e nient'altro, vuol dire che anche il sistema IT, la qualità di reparti, i IT di qualità delle aziende possono usufruire il nostro software per aumentare l'efficienza nell'azienda. Quali i vostri partner? Uno con cui collaboriamo è Easy Software. Perché collaboriamo con l'Easy Software? Perché il nostro sistema è possibile anche integrarlo con vari sistemi, diciamo, MES di Easy Software. Vuol dire che da una parte c'è il MES, dall'altra parte, diciamo, è il mondo delle creatazioni e trattura. Il mondo delle creatazioni sta andando sempre molto importante, chiaramente sempre in più nella farmaceutica e nel medical device. Oggi nel vostro intervento avete parlato di Label Management System. Quali le caratteristiche e quali punti di forza? L'Abel Management System, che è il nostro, diciamo, prodotto top, diciamo, per la gestione dell'etichettatura, vuol dire che tutte le etichette sono centralizzate, vuol dire che non sono sparse per tutta l'azienda nel B2C, come ho parlato prima, centralizzate e tutti gli utilizzatori, che siano il designer, quello che crea le etichette, quello che è la qualità per l'approvazione dell'etichetta, per i bisogni dell'etichetta, vengono, viene tutta centralizzata tramite il nostro Document Management System. Vuol dire che tramite il nostro Document Management System, il Control Center Label Management System, è possibile anche che l'ET può gestire tutto, diciamo, la visibilità totale su tutte le stampanti nel, diciamo, in un plant in un'azienda. Grazie a tutti. Grazie a tutti.